Non si arresta la lunga scia di furti e tentati furti a Fogliano, un territorio che sembra essere stato preso di mira da una banda di topi di appartamento, un'ondata di raid che ovviamente preoccupa l'intera cittadinanza. E proprio per questo motivo lo scorso lunedì è stata convocata una riunione operativa tra il sindaco di Fogliano, la giunta e l'intero consiglio comunale alla presenza del maresciallo Fausto Mazzetti, comandante della locale stazione dei Carabinieri, il quale ha comunicato che l'arma dei Carabinieri di Fogliano in queste settimane ha aumentato i controlli diurni ma soprattutto notturni, coadiuvati quando necessario anche dai colleghi delle altre caserme. A questo l'amministrazione comunale ha aggiunto l'ulteriore sostegno della Polizia Municipale e della rete di videosorveglianza istituita in questi ultimi anni che sarà presto ulteriormente implementata. Su Fogliano della Chiana abbiamo potenziato il nostro dispositivo negli ultimi giorni, anzi nell'ultimo mese perché qualche episodio c'era già stato, noi effettuiamo anche un'analisi dei dati. Proprio in virtù di questa analisi dei dati possiamo potenziare i servizi e dispiegare i servizi aggiuntivi. Lo stiamo facendo, il fenomeno attualmente è sotto controllo, c'è stato un momento di picco, speriamo di risolvere questa questione in tempi accettabili.